Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh. Nel nome di suo figlio, il nostro re, salvatore, rendentore, Yahweh Shai. E nel nome dello Spirito Santo, Rukah Kodash. Mi do più onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della Casa di Israele, Yasharala, a coloro che stanno lavorando nella vigna che è questa terra qui, in questi ultimi giorni, facendo sì che questa verità possa arrivare ai quattro lati della terra. E a coloro che con sincerità cercano questa verità. I miei saluti. Questa lezione si tratta del libro di Matteo, capitolo 7. Inizio leggendo dal versetto 13 che dice Entrate dalla porta stretta, perché è larga è la porta e ampia è la via che conduce alla distruzione, e molti sono quelli che vi entrano. Queste sono le parole del nostro Salvatore, Yahuwah Shai. Perciò fatevi un esame di conscienza sulla strada che siete. Perché qui dice Larga è la strada, è la via che conduce alla distruzione, e molti sono quelli che vi entrano. Questo, solo questo versetto vi fa capire che la verità non è in cristianesimo. La verità non è nel cattolicesimo, la verità non è in religione, non è nell'Islam, non è nel Buddha, non è in nessuna di queste religioni qui. Perché quelle sono delle porte larghe. E cosa leggiamo? Cosa dice qui? In versetto 14 dice Perché è stretta, è la porta. È stretta, è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Come ho detto prima, fatevi un esame di conscienza, e chiedete se state facendo il vostro cammino verso la strada stretta. Perché è quella che dobbiamo cercare. E questa strada stretta è questa verità che abbiamo. Noi della Great Mewstone, che ci è stato dato dal Padre, attraverso il suo figlio Yahawashai, attraverso lo Spirito Santo, Rukah Kodash, ok? Questa verità. La conoscenza di questa scrittura, e soprattutto lo Spirito che ci è stato dato, per seguire i comandamenti, che queste sono le chiavi per entrare in questa porta stretta. La conoscenza del nome giusto del Padre, e venire fuori da tutte le menzogne del mondo. Come avevo detto prima, la verità non si trova nelle religioni. Queste religioni sono delle porte larghe, ok? Versetto 15 dice Allora, dobbiamo fare attenzione ai falsi profeti. Prima di tutto quello seduto nel Vaticano, che predica menzogne, che predica stregoneria, Ma la faccia di tutti sono chiusi, la faccia di maggior parte sono chiusi, ma gli eletti no? Non riescono a vedere queste menzogne qui, non riescono a vedere che sono incatenati con le catene delle menzogne, ok? E loro hanno molti agenti, sono anche agenti che non vi parlano nemmeno di religione, anche la scienza per dirvi è una religione. Sono dei falsi profeti, sono dei falsi profeti, predicano menzogne, perciò la verità si trova solamente nelle scritture. E bisogna essere proprio umili, avere il timore del Padre e cercarlo sinceramente per avere la sua verità. E chiamare nel suo nome vero, che è Yehawah, e nel nome vero di suo figlio Yehawah Shai, ok? Li riconoscerai da loro frutti, ok? Noi li riconosceremo da loro frutti, perché? In versetto 17 dice, così anche ogni albero buono produce frutti buoni, ma un albero corotto produce frutti cattivi. Basta guardare tutte le cose che fanno questi qui. Questi frutti intendono i loro fatti. E le cose che fanno, loro si dichiarano dei santi, ma non fanno nulla che ha a che fare con i santi. I veri santi seguono i comandamenti del Padre, non fanno nulla della loro volontà, ma della volontà del Padre. Un vero santo non ti dirà che è stato abolito questo comandamento. Vai avanti. Fai quello che vuoi. Un vero santo non ti dice, i uomini possono sposare con i uomini e le donne possono sposare con le donne. I veri santi non ti dicono che un uomo può diventare donna. È una donna uomo. I veri santo non ti dicono che domenica è il giorno per venerare. I veri santi non chiamano i nomi falsi come conoscete Gesù, Dio. Ok? Perciò fate attenzione. Versetto 18 dice, un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero corrotto può produrre frutti buoni. Eh sì, ho fatto diverse lezioni facendovi vedere che i malvagi non hanno la predisposizione di fare bene. Loro sono stati programmati solamente a fare male, i malani. Sono stati programmati a fare solamente male, i malani. Non hanno la predisposizione per fare bene. Il padre li ha programmati così. Ok? Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Ok? Pertanto dai loro frutti li riconoscerete. Perciò questi alberi rappresentano noi, le persone. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Ok? Soffriranno tutto quello che sta per avvenire. Come sapete, ci sarà una distruzione nucleare. In moltiplici posti. E tutti... Tutti gli agenti che hanno lavorato finora per Satana. Travestiti. Come dei santi. Che hanno causato solamente distruzioni e povertà in questo regno. Che non hanno nulla di buono dentro. Ma menzogne. Hanno sviato il popolo. Saranno distrutti. È quello che sta dicendo questo versetto qui. E noi li riconosceremo dai loro frutti. Perché loro non osservano i comandamenti del Padre. Non hanno il nome vero del Padre. E sono pieni di menzogne. Non tutti quelli che mi dicono, Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ok? Questo è un altro indizio per conoscerli. Loro vengono e chiamano i nomi di Signore, Signore, qui, Signore, là. Ma non fanno la sua volontà. Qual è la sua volontà? I suoi leggi, statuti sono la sua volontà. Se mi ami o servi i miei comandamenti. Ok? E' impossibile che questa gente stanno dalla parte del Padre, osservando i suoi comandamenti, con dei leggi draconiane, con delle leggi contro natura, con delle leggi contro le leggi del Padre. E' impossibile. Questi sono i loro frutti a che dobbiamo fare attenzione. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo profetizzato nel Tuo nome, e nel Tuo nome hai scacciato demoni, e nel Tuo nome hai compiuto molte opere meravigliose, e poi professerò loro che non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate in equità. Ok? Questo qui è molto chiaro, questo versetto, che in quei giorni tanti vorranno farsi sentire, anche nella casa di Yasharala, che è Israele. Ok? Perché ricordatevi, due terzi della casa di Israele sono malvagi. Hanno scelto di partecipare a questo regno e di sviare il resto del popolo. Hanno partecipato di lavorare con i veri figli di malvagi, allora avranno la loro porzione dei flageli che arriveranno ai malvagi. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io paragonerò a un uomo saggio che ha costruito la sua casa su una roccia. Cari signori, la chiave di tutto questo libro è qui, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, lo paragonerò a un uomo saggio che ha costruito la sua casa su una roccia. Ok? Coloro che sentiranno la buona novella che è la rendizione dei figli di Yasharala dalle mani di tutte le altre nazioni, soprattutto dalle mani dei figli dei caucasus, i malvagi, i figli di Esau. Questa è la buona novella. Coloro che lo sentiranno il loro cuore torneranno al padre e cominceranno a rileggere i suoi comandamenti e fare il loro meglio per mettere per mettere in pratica questi comandamenti che saranno coloro che sono i veri saggi. Ok? Coloro che non chiamano il nome blasfemo Gesù e altri Dei o chissà cosa. Coloro che lo chiamano per il suo vero nome e seguono la sua volontà. loro stanno costruendo la casa su una roccia e non si parla di coloro che cercano delle diverse carriere di essere più ricchi possibile in questo regno. Intanto ci è stato chiesto di pregare affinché il regno dei padri possa essere stabilito qua sulla terra. Avete dimenticato? Che ha costruito la sua casa su una roccia. e la pioggia è caduta e sono venuti i fiumi e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa e non cade perché era fondata su una roccia. Queste leggi sono una roccia. Sono una stabilità solida che non potremo mai cadere se mettiamo il nostro cuore su queste leggi del Padre. e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia e la pioggia è caduta e sono venuti le proprie anime su questi detti il popolo rimase sbarludito dalla sua dottrina perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come iscrivi è importante sapere questa dottrina questa verità che è scritto sono le leggi dati a Mosè e sono ben 613 o 615 613 leggi nelle scritture ok in tutte le scritture sono leggi facili se guardate lo Stato vi dà leggi e da quello che ho capito che almeno in Italia ci sono più di 800 sono più di 800 leggi qualcuno mi può correggere se sbaglio e dovete mettere in pratica tutto e non riuscite a mettere in pratica i 613 leggi del padre vi verrà richiesto tutto questo i scienziati i dottori menzogne politici menzogne che vi dicono queste menzogne che vi fanno un bel lavaggio di cervello e vi danno una sorta di pace calma e superficiale che non c'è siate pronti per essere distrutti la strada è una ed è attraverso il figlio del padre Yahweh fare ciò che dice quello che dice il figlio è quello che l'ha mandato a dire il padre che è Yahweh e noi siamo sotto il figlio che è Yahweh lui è il nostro re e salvatore e noi aspetteremo il suo ritorno perché questo regno non è il nostro regno detto questo spero siete stati edificati state attenti pregate affinché il padre possa aprire gli occhi alla prossima Shalom